e siamo live. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata live di Product Heroes per questa nuova stagione primaverile. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli e vi parlo as usual da Berlino e sono la vostra host ed è il mio compito intervistare per voi Product Leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practice e le lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi è tutta incentrata sulla Product Strategy. Cos'è una Product Strategy, come si costruisce una Product Strategy e soprattutto come la si comunica. E lo faccio con un ospite toscanissimo come me che è eccezionale perché ha oltre 15 anni di esperienza nel mondo del Product Management e ha maturato questa esperienza in ben due continenti. Quindi ha cominciato in Cina e poi dopo è tornato verso Europa perché ha lavorato per Tencent, Alibaba e più recentemente per Booking.com. Per cui io ho il grande piacere e il grande onore di ospitare oggi Tommaso Lombardi. Ciao Tommaso! Ciao Sara e grazie per l'introduzione. Insomma, la community parla italiano, io insomma parlo un po' di toscano ma penso vada bene un po' lo stesso. Un po' di toscano ogni tanto nelle puntate ci vuole. Allora, prima di cominciare salutiamo tutte quelle persone che si stanno collegando adesso alla live e invitiamo le persone che si collegano a utilizzare la chat e quindi a lasciarci le loro domande lì perché Tommaso è una persona estremamente interattiva e più che un'interview unilaterale ama rispondere alle domande del pubblico. Per cui non vi vergognate, utilizzate la chat per comunicare con noi e io farò, girerò le vostre domande a Tommaso. Ciao Giacomo! Ciao Giacomo! Ecco! Vedi? Già si comincia a utilizzare la chat, ottimo segno. Tommaso, prima di entrare nel vivo, tu c'hai questa storia, quindi già toscanissimo, quindi già post points, ma tu hai questa storia un po' mirabolante da girovago in vari continenti, cioè com'è che dalla Toscana, dove sei tu di preciso? Sono di Firenze. Di Firenze. Capitale della Toscana. Fiorentino. Cioè, non è che da Firenze hai preso la caravella e te ne sei andato in Cina alla Marco Polo, no? Guarda, guarda, sinceramente non lo so. Cioè... Non ci sei finito. No, no, c'è una storia, c'è una storia un po' particolare, anche un po' stereotipa, no? A me piacciono le arti marziali, continuo tuttora a fare arti marziali e tutto e fondamentalmente sono andato in Cina per le arti marziali, come tutti. Poi ho preso 20 chili e non ho fatto nulla per tanti anni, insomma, no? Però va bene, uguale. L'intenzione era quella. E mi ricordo, io già, insomma, un po' bazzicavo, ho iniziato piuttosto presto. Sono un product manager, penso, accidentale, quasi, perché la prima volta mi venne proposto di essere un product manager e non sapevo nemmeno cos'era. E iniziò tutto in Italia, eh? Iniziò tutto in Toscana, fondamentalmente. Eh, già avevo un po', diciamo, di, di affinità per la tecnologia e ho fatto anche il front-end developer, no? Ma non si dice perché usavo tecnologie talmente all'avanguardia tipo jQuery e PHP che mi vergogno quasi, con tutto rispetto per chi fa PHP tutt'ora, eh? Poi appunto sono andato in Cina e mi ricordo che vidi un internet caffè, ai tempi esistevano ancora, era l'unico modo in cui le persone potevano andare su internet e vidi questa forza, questa energia pazzesca e dissi no, qui sta succedendo il finimondo. Devo venire qui. Se voglio lavorare nella tecnologia devo venire qui. E difatti poi ho preso vari step, diciamo, intermedi e baracche e burattini, no? Un po' con la valigia di cartone, letteralmente, sono un po' andato lì. E poi nulla, il resto, il resto poi sono qua, dopo tanti anni ho deciso di tornare, ho tornato in Europa, ero più di cinque anni sono tornato. Comunque ecco, è questa più o meno la parabola, no? Cioè tutto nasce dalla passione per le arti marziali, fondamentalmente. Vabbè, un po' a casa, un po' come tutti i pubblici in questo mondo che lo fanno da un po' di anni ormai, no? Cioè non è mai stato volontario, è sempre una cosa che ti sei ritrovato. Ma poi come sei finito, benissimo questa cosa, ma come sei finito a Tencent prima e poi a Alibaba? Beh, in quello tutta la magia del... Occidentale, cioè quanti ce n'era? No, ero l'unico, fondamentalmente. No, oddio, no, non è vero. A Tencent ero l'unico. Poi vabbè, se consideri i cinesi che magari hanno il doppio passaporto, il passaporto di sgamo americano, canadese, quel che vuoi, ce n'era alcuni, no? Di certo, con questa faccia bianca così ero l'unico. Specialmente tra i PM, diciamo. No, beh, il fattore buono della Cina di quei tempi era appunto grosso boom economico, con un'inflazione spaventosa, ma anche una crescita... Che anni erano? Eh beh, no, si parla dell'inizio degli anni dieci. Quindi, quindi fondamentalmente, fondamentalmente lì era molto facile entrare nel mirino di qualche cacciatore di teste, finire al momento giusto con l'azienda giusta, che magari stava facendo già dei primi grossi passi di crescita e tutto il resto. E in questo modo, ecco, penso sia piuttosto anche comune un po', no? Nella nostra linea di lavoro, che magari finisce a lavorare per un'azienda. All'inizio l'azienda, sì, ok, no, la conosco e poi prende il botto, no? Prende il volo e anche a distanza da anni dici, ah, per bacco. Però ho fatto parte di una cosa piuttosto grossa, no? Magari quando eri lì non te ne erai ancora accorto, ecco. Che cosa, su cosa lavoravi quando eri a Tencent o Alibaba? Quando ero, quando ero a Tencent fondamentalmente all'inizio c'era, bisogna fare un po' di storia di internet cinese qui, no? Tencent è nato fondamentalmente come servizio di messaggistica, ma non fino a se stesso. Cioè, non era un WhatsApp prima dell'acquisizione da parte di Zuckerberg, no? E tra l'altro con WhatsApp ancora devo pensare un po' come possano monetizzarlo, vabbè, comunque. Tutte le varie applicazioni di messaggistica di Tencent servivano come chiave d'entrata all'ecosistema dei videogiochi, che di fatto, fino a un paio di anni fa, erano illegali in Cina. Però se li vendevi come servizio aggiunto per un servizio di messaggistica, si trova all'inghippo, no? Come si dice. E fondamentalmente fu quello. Io all'inizio lavoravo nella parte dei social network, della messaggistica, e poi venne fuori questa grande idea di cercare, diciamo, di semplificare la messaggistica tipicamente cinese e cercare di fare una cosa un po' più snella, che funzionasse anche da, questo è un termine tutto occidentale, la super applicazione, no? E quello fu l'inizio di WeChat. Ho avuto modo di lavorare sia sull'uno sia sull'altro campo, diciamo, di Tencent, che poi appunto avevamo tutta una sezione di videogiochi che non ho mai toccato. Io più che altro ero sempre nella parte dei social network, della messaggistica. E no, fu una bellissima esperienza, perché da una parte i problemi dell'azienda cinese che deve andare all'estero, tutti i vari problemi di internazionalizzazione che non erano ancora mai stati fatti, la competizione, perché quegli anni lì, ricordiamoci, no? Del 2012, così, quando ci fu l'acquisto di WhatsApp, c'era la guerra dei messenger, no? Magari persone un po' più canute come me, canute o pelate, dipende dal punto di vista, un po' più, diciamo, anziane come me, possono ricordarsi, no? IRC, ICQ, no? Tutte queste robe qua. Poi ci fu un punto di rottura con l'arrivo dei cellulari, in cui tutta la messaggistica, no? Venne un po' riscoperto, no? Il piacere della messaggistica e tutt'ora, diciamo, è diventata una cosa talmente normale, quasi, no? In quegli anni lì c'era tanto fermento in quel segmento dell'industria tech, diciamo. Era bellissimo, perché era molto dinamico, c'era tantissimo da fare, tante battaglie da scegliere, è divertentissimo. E adesso entriamo un pochino più nel vivo, no? Poi a un certo punto decidi di tornare in Europa, entri a Booking e quindi, cioè, tu hai questa esperienza un po' pazzesca, perché ti sei fatto tutte queste aziende, prodotti differenti, problemi differenti, eccetera, no? Ed è proprio per questo che con te volevo cominciare a trattare il tema della Product Strategy, perché avendo visto tutte queste aziende, eccetera, poi possiamo anche dire che tu sei docente al Master di Product Heroes in Product Management e insegni nel Master, appunto, Product Strategy, no? Proprio in vero di questa tua esperienza. Ci dice anzitutto che cosa è la Product Strategy? Partiamo dalla definizione. Ma, sai, 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 una definizione chiara non c'è, perché io penso sono stati spesi litri di inchiostro già su definire cos'è una strategia, no? Cos'è una strategia, no? Tante volte è una buzzword, va bene? Tante volte è un modo di mascherare un obiettivo numerico per un'azienda, dice, ah, dobbiamo fare dieci, dobbiamo vendere diecimila francobolli, e quella è la strategia, no? Quindi la strategia in sé, dargli una definizione univoca, che vale in tutti i modi, applicabile ovunque, io penso sia una cosa impossibile. Ciò che serve, però, è pensare all'origine della parola strategia. Da dove viene? Viene dal greco, no? Lo stratega era fondamentalmente generale dell'esercito, no? Di fatto la strategia, non so se è una definizione valida, ma la strategia è un contenitore, va bene? Piuttosto multiforme anche, piuttosto fluido, di ciò che serve per vincere, punto. Va bene? Quindi applicata all'ambito, al contesto del prodotto, va bene? Una strategia del prodotto è una serie di pratiche, credenze, sistemi di riferimento, sistemi di misurazione, visione anche, no? Se vuoi, anche quello è un elemento, ma comunque diciamo che è un contenitore di strumenti che permette a un'azienda, attraverso una funzione di sviluppo del prodotto, di vincere nella competizione in cui si trova, giusto? Ecco, questa è la definizione un po' che penso di poter dare. Una strategia di prodotto ovviamente non la puoi, diciamo, sciogliere da quella che può essere la strategia anche di tecnologia, perché di fatto, di solito, quando si parla di prodotti management, si parla di prodotti software, no? Alla fine della fiera si parla di cose immateriali, però di fatto, diciamo che l'approccio a definire, ad avere un po' questa specie di mentalità aperta nel definire quali sono gli ingredienti per la vittoria, va bene? È un po' una cosa che si può applicare a qualsiasi campo del business, no? Poi nel prodotto ci sono delle specifiche particolari dovute a come i prodotti vengono sviluppati nell'ambito software, ecco. Questa penso sia un po' la definizione che mi sento di dare. Ok, e senti, mi piace tantissimo, perché è semplificata al massimo, senza troppe buzzwords, eccetera. La strategia di prodotto contiene tutto quello che devi fare per vincere. Sì. Semplicissimo. Però, semplicissimo la definizione, altra cosa è capire, prima di tutto, come si capisce cosa devi fare per vincere? Ma, sai, quello è un discorso contestuale, ti posso dare una risposta tipica da business school, no? Eh, dipende, però è vero, va bene. Allora, perché dipende? Fondamentalmente quando si va a cercare la vittoria bisogna sapere bene dove vogliamo andare, perché e come, va bene? Perché di fatto qualsiasi campo di battaglia è caratterizzato da una cosa, il movimento, no? Solitamente. Poi, vabbè, possono cambiare le armi, possono cambiare gli strumenti, no? E quel che vuoi, anche gli eserci, i replotoni, però fondamentalmente c'è del movimento. Quindi sapere dove andare è fondamentale. Diciamo che il primo macrogruppo o il primo raggruppamento di elementi che puoi ascrivere a una strategia di prodotto, va bene? L'altro è perché, no? E rispondere alla domanda perché. Perché proprio quel movimento, perché proprio quella direzione e perché c'è valore, no? Poi sul valore potremmo aprire altre ore di discussione, cos'è il valore, eccetera, eccetera. Nell'ambito di fare prodotto, solitamente il valore è qualcosa che sta a me da tra il valore che crei per l'azienda e il valore che crei per l'utente finale di ciò che ti proponi di vendere, di portare sul mercato, no? Giusto. E poi, infine, come ho detto, c'è il come, che è la parte un po' più tattica, è la parte un po' più prescrittiva a volte, può esserci. Ma tutti questi tre elementi devono essere caratterizzati da due cose fondamentali, per come la vedo io. Uno, il prodotto non agisce mai in isolamento da altre funzioni all'interno di un'azienda, grande e piccola che sia. Sia che sia una startup e se il CPO c'è il CTO e c'è anche il CEO e c'è anche il CEO e chi vuole. Non puoi agire in isolamento, va bene? Quindi definire i contenuti di questi tre cassetti, no? Il dove, il perché, il come, deve essere un lavoro di insieme, deve essere un lavoro di squadra, no? Deve essere un lavoro dove solitamente chi fa prodotto è, diciamo, il maestro d'orchestra un po', no? Poi c'è l'altro elemento un po' imprescindibile del definire una strategia di prodotto e, come ho detto un'altra volta, è la tecnologia. Va bene? La tecnologia, sempre ammesso che si parli di program management nel settore di software, la tecnologia è anche qualcosa di talmente fondamentale perché da una parte ti permette di capire ciò che sta avvenendo all'intorno di te, all'intorno, perdonatemi, attorno a te e anche nel tuo mercato, nella tua industria di riferimento. Va bene? Quindi, uno, la tecnologia allo stato tale, allo stato dell'arte, ti permette di avere, diciamo, dei limiti, no? O comunque ti crea dei confini che ti delimitano il piano d'azione. Va bene? Dall'altra parte c'è il fattore fattibilità, perché tutti possono avere un paio di ingredienti mescolati bene per vincere un qualsiasi tipo di sfida, no? Economica, commerciale, di business, quel che vuoi. Va bene? Però se non è fattibile rimane lettera morta. D'accordo? E io, forse magari un po' per il mio trascorso, no? Ho lavorato anche tanto a contatto con ingegneri, anche su prodotti piuttosto tecnici. Io penso che questo elemento qui sia fondamentale. Poi mi sovviene anche un altro elemento aggiuntivo che, come dicevo, non si può agire in isolamento. All'interno di un'azienda bisogna essere sempre ben ancorati a quella che è la strategia aziendale. A volte non c'è. A volte ci sono aziende che non hanno strategia aziendale. A volte la strategia del prodotto diventa la strategia aziendale e viceversa. Ma diciamo che sono un po' situazioni spurie. Magari succede all'interno di un'azienda piccola. All'interno di un'azienda grande, solitamente il prodotto è una funzione ben definita, con un certo tipo di architettura organizzativa. Pertanto è difficile che non ci sia qualcosa sopra, va bene? E anche questo elemento qui fa parte del, diciamo, il lavoro di concertazione e di lavoro di squadra proprio, no? Che caratterizza il, come si fa una strategia di prodotto fondamentalmente, va bene? In mezzo, no, a questi elementi che tu poni, come si fa a validare se la tua strategia è quella giusta o no? No? Perché tu lavori molto a monte, se tu fai una strategia di prodotto, tu lavori molto a monte. Lavori solitamente anche prima che tu abbia tutti i dati di validazione, eccetera, no? Sì, sì. Quindi poi sulla base della strategia di prodotto vai e validi, no? E cerchi, ok, ho i dati per, no? Sì, sì, sì. Ecco, no, queste sono domande bellissime, ci vorrebbero ore, no? Però fondamentalmente, allora, fondamentalmente se vai a guardare un po' attorno, va bene? Indipendentemente dal grado di maturità della tua organizzazione o del tuo prodotto o che altro, no? Hai tre tipi di grandi approcci strategici e questo si applica non soltanto al prodotto, no? Uno è avere una strategia cosiddetta, all'inglese dicono emergent, no? Quindi in fieri, va bene? L'altro è di avere una strategia di differenziazione e l'altro è di avere una strategia di, diciamo, andare sul prezzo ed essere più competitivi dato un mercato di riferimento con una domanda e del valore che io porto su questo mercato cercare di attaccare l'elemento prezzo, no? La dimensione di prezzo e di costo, ecco, diciamo, in italiano. Fondamentalmente sono queste tre. Ora, tante volte, come hai detto te, è un po' un lavoro a monte, va bene? Che però influenza anche come poi vai a sviluppare e a convalidare che la tua idea sia giusta, va bene? Tante volte, guarda, ti faccio un esempio, Spotify. Perdono, mi sono confuso tantissimo. Shopify è iniziato in maniera completamente in fieri. Non aveva mai avuto una strategia di prodotto di dire, ah, bene, noi diventiamo il SaaS per chi vuole fare i comments. Non ce l'hanno mai avuto, hanno iniziato... Uno dei founder, se non il founder di Shopify, per quanto mi posso ricordare, ha iniziato perché aveva il suo piccolo negozietto online e aveva bisogno di far qualcosa che potesse semplificare la gestione, no? Poi dopo, successivamente, aprendosi a vari plugin preesistenti, a piattaforme open source di e-commerce, eccetera, le è venuta l'idea, ah, ma forse io ho qualcosa qui che può agganciarsi a altri sistemi preesistenti e di inventario e di gestione dell'inventario e di vendita e magari riesca a farci qualcosa di diverso sopra, no? Ecco, questo è un esempio di un tipo di strategia di prodotto che viene fatto in fieri. Quindi guardi adesso cosa hai, va bene, e poi in base a come si evolve, solitamente il segnale numero uno di Convalid è un segnale economico. Quindi se ci sono degli utenti disposti a pagare, vuol dire che qualcosa sta andando per il verso giusto. Non prendiamoci per i fondelli, va bene? Perché tutte le strategie sono belle, fin tanto non si scontrano con la dura realtà dei soldi, va bene? Quindi io sono molto concreto nel dir questo. Dall'altra parte c'è le cose fatte un po' più a tavolino, che magari se sei a un punto di maturità maggiore, col tuo prodotto già esistente, oppure sei all'interno di un'azienda grande, allora ti affidi, diciamo, un po' più all'informazione di contesto che già hai. E in quei casi lì la convalida, sì, certo, è importante, ma la definizione della strategia è anche a livello tattico, a livello esecutivo, diciamo. Se hai da perseguire una strategia di differenziazione in mezzo a una foresta, dove tu sei l'alberino più piccolo e ci sono delle sequoie attorno a te, beh, è chiaro, no, un po' che quella è la situazione da percorrere, no? Ripeto, sapere dove andare, perché e come, va bene? Si parte sempre da lì. Poi la convalida di ciò che abbiamo scelto come ingredienti per vincere in un determinato contesto, di fatto è qualcosa che avviene soltanto al momento dello scontro con il mercato, con l'utente, con la transazione alla fine della fiera, no? Io la vedo in questo modo, magari sono un po' un massimalista, però ci sono modi di evitare che si sbagli e modi che riescono a ridurre, diciamo, la possibilità di fallimento, no? Quando si imposta una strategia. Ecco, ci svegli quali sono questi metodi e questi tricks, così ci risparmi tanta partita. Io penso sempre che a monte ci siano un paio di cose fondamentali, indipendentemente dal team di strategia e indipendentemente anche dall'industria o dal settore in cui operi. Uno, il team, perché il perché di una strategia è più importante di qualsiasi altra cosa, va bene? Perché di solito, ora prendiamo l'esempio di un'azienda grande, va bene? Con varie funzioni di prodotto, magari, no? C'è una grande organizzazione di prodotto e poi varie funzioni di prodotto per diverse business line o che vuoi. Il compito del prodotto leader è di trasformare la strategia aziendale in qualcosa di applicabile a quel determinato scopo dell'organizzazione di prodotto, va bene? Proprio perché è un lavoro di gruppo e proprio perché si lavora in tecnologia, tantissime volte una strategia, che poi, ripeto, viene trasmessa dall'alto verso il basso, attraverso il prodotto, fallisce proprio quando gli elementi dell'organizzazione non hanno ben chiaro perché stiamo facendo questa cosa. E guarda che io penso si sprecano i casi di situazioni di questo genere, specialmente quando si va poi a guardare a un discorso di product management inteso come creazione di features, va bene, software, dove hai degli sviluppatori che, uno, sono una merce rara in questo mercato, va bene? Rarissima. Rarissima. Due, il fattore, diciamo, di sicurezza psicologica è un elemento cardine per tenere insieme l'organizzazione di prodotto, perché se il prodotto manager non è in grado di fornire bene, un ben perché, diciamo, che è motivazionale, è chiaro, e riesce bene a articolare anche il vantaggio e il valore delle azioni che il PM vuole che i nostri sviluppatori facciano, gli sviluppatori, beh, sai che possano fare? Ti danno il ben servito. E io lo dico sempre, un prodotto o una strategia di prodotto, puoi avere il piano più bello che vuoi, i prodotti non vengono distribuiti da soli, senza la tecnologia non si va da nessuna parte, no? Products don't ship themselves. Io lo dico sempre. Quindi, qual è uno dei, diciamo, trucchi, va bene? La strategia di prodotto deve essere inclusiva e deve essere anche un atto di chiarezza nei confronti di chiunque lavori insieme a te come product manager, va bene? Indipendentemente dal fatto che poi tu voglia costruire il modo più... Guarda, ti faccio un esempio, no? Io ho un prodotto, posso anche differirmi a cose effettivamente accadute, no? Io ho un prodotto di classifieds, no? Di piccoli annunci, C2C, va bene? Aperto a tutti, una marketplace, un tempo non si chiamava marketplace. Io ho iniziato da quel tipo di prodotti lì, no? A avventurarmi in the product manager. E diciamo che il dove, cos'è? Beh, il dove è che voglio aiutare, no? Voglio aiutare, voglio arrivare a diventare, mia azienda che si occupa di classifieds, il numero uno in un mercato di riferimento, va bene? Il perché? Perché ci sono un sacco di persone che vorrebbero vendere cose, magari perché hanno la casa stracolma di robe che non vogliono più tenere, le vogliono vendere, le vogliono liberarsene in maniera semplice. Il come? Voglio lavorare sull'esperienza utente affinché non ci siano punti di frizione e che sia semplicissimo per chiunque, con qualsiasi tipo di dispositivo, mobile, desktop, quel che vuoi, vendere, liberare la propria casa e magari fare anche qualche spiccioletto, va bene? Ecco, questo proprio fatto al volo potrebbe essere un esempio di strategia. Ora, partendo da qui dovrai anche iniziare a guardare, ah, ok, qui ho una visione di insieme, poi come riesco a avere il mercato, la marketplace, c'è un problema di acquisizione utente e di traffico, quindi c'è già uno split, no? L'acquisizione in sé e la generazione di traffico anche all'interno della piattaforma. Poi c'è l'altra parte, la transazione, come riesco a attivare le transazioni customer to customer, per esempio, e via dicendo, e vai a scomporre tutti i vari elementi costituenti che possono tutti vogare nella stessa direzione settata dalla strategia di prodotto. Ecco, questo è fondamentale che sia chiarissimo a tutti. Perché? Perché la magia inizia all'interno del team di prodotto quando usi la leva degli ingegneri che hai e dei cervelli che hai e li metti di fronte a un problema e li fai pensare come risolverlo, va bene? Se limiti quello, stai limitando la tua capacità di fare prodotto. Non si tratta più nemmeno di un... Beh, sì, ma sai, ma io devo fare, devo fare una delivery, no? No, e non fai più prodotto a quel punto lì. A quel punto lì stai seguendo un cronoprogramma di cose da fare, di task, no? Perché poi è proprio da quell'alchimia che riesci a creare tra i vari elementi del team che poi ci puoi mettere un po' di tutto dentro e non necessariamente sono ingegneri, ricercatori, gente che parla dalla mattina alla sera con i clienti, esperti di design, no? Devi creare quell'ambiente intellettivamente stimolante dove le persone hanno ben chiaro il problema, sanno perché le soluzioni a cui possono pensare contribuiscono direttamente alla creazione di valore e a quel punto lì possono andare a brilli, a sciolta. Il product manager sta lì, diciamo, un po' come il pastore, no? Col bastone guida tutto questo... questa armata, ecco. E questo è come lo vedo io. Questo è molto chiaro. Quindi, secondo te, gli elementi di successo di una product strategy sono, prima di tutto, essere crystal clear nel why, no? Sì, assolutamente. Secondo, devono trattare più del problema che non della soluzione perché per la soluzione questa deve essere condivisa con il team, no? E quindi deve essere fatta anche sulla base della tecnologia che è a disposizione o che sta emergendo, sulla base della fattibilità e quindi anche delle competenze del team, di quante risorse, no? Altri elementi che ci siamo persi per strada, io spero che tutti quanti stiamo prendendo appunti nel frattempo, ma la puntata è registrata e quindi se la possono riguardare. No, io penso, ecco, sia molto importante l'elemento anche di connessione con un qualcosa di valore che viene creato. Poi il valore, appunto, ci si può spendere ore a dire cos'è. All'interno di un'azienda grande è solitamente qualcosa che davanti c'è il simbolo di qualche moneta corretta, no? Euro, pound o quel che vuoi o dollari. Però ha conti fatti anche su un ambiente microscopico, che ne so, perché la product strategy poi, diciamo che è un'idiozia pensare che sia qualcosa che fa soltanto il direttore o qualcuno con un grosso titolo. La fai anche col tuo team, è fondamentale, no? È così che ti tiri il team dietro, come dicevo prima, no? Crei l'ambiente affinché le energie intellettuali del tuo team possono dare frutto, va bene? Quella è la cosa fondamentale. Quindi, non soltanto la chiarezza, non soltanto il perché, ma anche l'articolazione del valore. Sia che tu stia lavorando su una piccola feature, sia che tu stia lavorando nella prossima grande cosa che porterà l'uomo su Marte, l'uomo e la donna su Marte, per colonizzare nuovi pianeti e bla, 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 bla. Il fondamento rimane lo stesso. In piccolo o in grande il fondamento sono le stesse. Sì, assolutamente. Senti, noi siamo notissimi per il taglio super tattico, no? Che diamo ai nostri ascoltatori. Il nostro motto è lo puoi mettere in pratica fin da subito domani, no? Nella tua azienda. Ci dici, se tu avessi un template, no? Di product strategy. Quali sono le sezioni che metteresti in questo template che devono essere compilate, no? Grandi linee, ok? Ho una bruttissima notizia per te. Io non ho framework. Quindi, vabbè, comunque, a livello personale, personalmente io non credo che i framework servono a niente se non a darti un'idea di come creare il tuo di framework. Quella è la cosa più importante. Perché sono cose statiche, va bene? Quindi vanno prese, assimilate, e poi applicate alla tua realtà. La tua notizia è quando ti è capitato di scriverlo, no? Non un framework particolare, ma quando ti è capitato di scriverlo, quali erano gli elementi che non mancavano mai, no? Quando la scrive? Due cose non mancano mai. Uno deve essere un documento condiviso, due deve avere i commenti aperti a tutti. Quelli penso che siano le uniche cose che veramente contano. Poi il contenuto è contenuto. Va bene, puoi scrivere quel che vuoi. Puoi mettere una bella vision statement, che è bello ricamatissimo, con parole ricercate, quel che vuoi. Lo puoi decomporre partendo dal vision statement, andando a guardare, ah, queste sono le metriche che vogliamo impattare, no? E via dicendo. Non conta niente. Deve essere un documento aperto, perché il momento in cui tu trova leader, trova manager, quel che vuoi, va bene, cali qualcosa dall'alto e non hai avuto nessun modo di coinvolgere gli altri attorno a te a fare quel documento è un fallimento garantito. Va bene? Garantito. A meno che, ovviamente, uno non lavori con un'azienda, non so, che manda tutto in outsourcing, e allora deve essere veramente, a quel punto lì, paghi per ora i tuoi sviluppatori, paghi per ora il tuo team, allora puoi essere prescrittivo quanto vuoi, no? Va bene. Ma solitamente queste sono le cose fondamentali che vorrei dire. Sembrano scontate, ma credimi, non sono. Poi, a livello di struttura, ovviamente ci deve essere sempre, e questo penso sia un fattore imprescindibile, un elemento numerico e quantitativo, già dalla strategia, ovvero tutti sono bravi a dire dove, come e perché, giusto? Però è importante, già ammesso che sia un documento, va bene, ammesso che sia un documento, poi può essere anche un aiuto visivo, no? Quello, dipendo, il contenuto è una variabile che poi, appunto, si può controllare come si vuole. Ammesso che sia un documento, il documento deve, per forza, per come la vedo io, già avere delle definizioni di successo della strategia, va bene? Quindi, quando è che possiamo definire il nemico sconfitto e noi vittoriosi, e avere già delle misure che non sono misure nuove, e è per quello che le devi definire insieme al tuo team. Sono misure a cui tutti possono rapportarsi, va bene? Quindi c'è anche l'elemento di semplificazione all'interno di un'azienda grande, per vedere qual è la stella polare dell'azienda, la devi portare nel tuo dipartimento, nel tuo team, e via dicendo, e appunto creare quella vicinanza di rapporto che tutti possono avere. Così che tutti, quando vanno a rileggersi la strategia, quando vanno a vedere qual è la vision, quando vanno a vedere quali sono i perché, per come decidiamo di percorrere questa strada di differenziazione o che altro, tutti poi possono pensare all'interno della loro testa, ma io riesco a muovere l'ago della bilancia su questo indicatore che fa parte della strategia e fa parte della definizione di successo? Ecco, questo penso sia un elemento imprescindibile. Numericità e soprattutto documento aperto con i commenti aperti a quante più persone possibile. Perché poi la product strategy è qualcosa di fluido, non è mai fissa. Se è fissa qualcosa, va storto. Io nell'azienda dove ho lavorato solitamente ho visto cambi anche ogni quarto. Cioè, non sbagliamoci. Poi c'è sempre qualcosa, un orizzonte a un anno, a tre anni, va bene, spesso nelle aziende grandi quello è definito proprio a livello diciamo organizzativo dal consiglio di amministrazione per l'intera azienda. Ma sono cose totalmente fluide. Ripeto, i confini del nostro agire nel prodotto sono fondamentalmente dati da quali sono le preferenze di mercato da parte del consumatore, va bene, quali sono i nuovi comportamenti, l'altro è la tecnologia. Questi due elementi qui sono in costante mutamento, no? Ovvio. Ovvio. Quindi... Ogni quanto secondo te va rivista una product strategy, no? Per rimanere il normale e al passo con i bisogni delle nuove tecnologie, perché al tasso... Ma sai, dipende tutto... Mi sa che abbiamo un po' di ritardo. Ma sai, senti, io penso, io penso non ci sia una risposta definitiva, no? Al quando o ogni quanto. Penso piuttosto che l'azienda debba aver, diciamo, costruito all'interno della sua organizzazione abbastanza agilità mentale da poter capire e quando si sta avvicinando... Torniamo a vedere, fondamentale della strategia, no? E quando si sta avvicinando una nuova fonte di pericolo e quando abbiamo una nuova opportunità, va bene? Queste sono le due cose cardine che poi determinano e, diciamo, danno il via, no? A un ripensamento della strategia e poi soprattutto, soprattutto essere consci di ciò che sta avvenendo attorno a te a livello di competizione e per finire guardare un po' quali sono quali sono i nostri limiti all'interno dell'azienda perché, ti faccio un esempio, un'azienda può avere una bellissima sessione di strategia di prodotto all'inizio dell'anno, va bene, facciamo la nostra strategia per il prossimo anno. Poi, Covid, 90% dei sviluppatori vanno via, che si fa? Quindi, ripeto, bisogna essere con orecchie ben aperte, nuovi fattori di rischio, nuove opportunità, l'andamento generale dei competitori e ciò che stanno facendo i competitori e poi fondamentalmente guardarsi all'interno e vedere se ci sono diciamo dei grossi smottamenti all'interno dell'organizzazione stessa. Ci arriva nel frattempo una domanda che è un po' relativa a quello che stai dicendo da Andrea Ruani che ci chiede come gestire le aspettative ed in generale delle relazioni con i vertici quando ci sono questi cambiamenti di strategia, che è una domanda totalmente... Insomma, una domanda enorme Andrea, io mi piacerebbe avere una bella risposta perché penso potrei far felice molte persone. Solitamente l'importante no? L'importante è... Viene da appunti. No? Anch'io guardo, no? Mentre le dico. Non mi seguo le cose. Questo è applicabile immediatamente. Ora, no, a parte di scherzi, io penso che l'elemento di inclusività del fare la strategia di prodotto già in sé ha il seme di come andare poi a comunicarla. Nel senso, se riesci a creare quel tipo di apertura nel processo che porta alla definizione della strategia che poi, ripeto, può essere un documento, un pezzo di contenuto, va bene? Se già hai messo quei tasselli no? Sopra lo scacchiere già sei a un buon punto per non aver nessun tipo di problema a comunicare non soltanto sull'asse verticale all'interno dell'organizzazione ma soprattutto sull'asse orizzontale anche, no? Quindi io penso che in generale gestire le aspettative parte dal comunicare in maniera molto chiara a tutti qual è la strategia che hai definito insieme agli altri insieme al tuo team insieme a tutti poi, le aspettative abbiamo detto che l'elemento numerico è quasi no? è immancabile per questo motivo qui le aspettative dovrebbero essere gestite soprattutto con i numeri va bene? Per come la vedo io i numeri non ci hanno emozioni quindi non ci sono opinioni in merito va bene? Possono essere tante opinioni sui numeri su perché abbiamo scelto i numeri o su perché i numeri non stanno crescendo al passo che vorremmo va bene? Però a livello di gestire le aspettative quando si va poi a presentare una strategia di prodotto che magari ci permette di incrementare le vendite di non so 200% e via dicendo una chiave numerica ti permette anche di gestire le aspettative in maniera molto molto più agile no? anche senza sorprese diciamo questa è come la vedo poi è un parere personale ok forse un po' più di un parere personale un ottimo connesso invito anche i altri ascoltatori che ci ascoltano nella chat a fare le domande perché ragazzi Tommaso questa roba le insegna al master ma se non avete preso al master veramente vi consiglio di prendere appunti perché Tommaso è il docente che io avrei voluto avere tantissimo quando ho iniziato la carriera perché tutti gli errori che dovevo fare quelli che sta menzionando lui devi condividere devi lasciare aperta io l'ho fatti tutti all'inizio tutti quelli che non dovevo fare poi io ho capito no? però ecco avere avuto un Tommaso che me lo spiegava all'inizio mi avrebbe saluto tanto tempo no? e tanto dolore ma sai Sara la nostra professione è una professione per come la vedo io molto esperienziale no? quindi cosa vuol dire? è come far pugilato prendi un sacco di batoste no? qualcuno si fracassa le costole il naso no? e via dicendo ecco è quello no? no ma per questo è l'initale di fare capito perché quando ho cominciato io le dirette su prodottinos o prodott school eccetera non c'erano e quindi capito ho preso una fila di batoste all'inizio gli errori che mi raccontano i guest non devi fare io li ho fatti tutti capito tutti ti capisco ti capisco quando ho iniziato anch'io non c'era un punto di riferimento in maniera assoluta può aiutare tantissimo penso magari se io sono in grado questo non lo so saranno gli studenti del master a valutarlo però posso dire mi piace mi piace io me la sono ascoltata tutta la sua elezione perché mi interessava e vi posso dire che vale assolutamente la pena questo è un assaggio di quello che fa lui durante la lezione però io continuo considerando proprio sul tema della condivisione della strategia di prodotto perché come la si condivide e come la si comunica ai vari livelli quindi come si ottiene il buy-in dagli stakeholders come si ottiene il buy-in dal team quindi come la si presenta e soprattutto quando cominci questo processo di condivisione nel senso quando l'hai già scritta tutta è una draft ancora è ancora spoglie in alcune parti io penso io penso che come tutte le buone cose spesso iniziano davanti a un caffè o una birra o che altro o una chiacchierata tutto deve essere incentrato a diventare un processo inclusivo va bene poi qui dico una cosa e poi magari me la rimangio perché dipende tutto da qual è la cultura aziendale ci sono aziende che conosco e alcune ci ho anche lavorato in cui il prodotto a livello è incaricato di fare questa roba calata dal cielo a modo di scrittura sacra un po' no? succede anche quello però anche tornando al discorso che si faceva per rispondere ad Andrea ciò che è importante è che il fattore diciamo di condivisione se vuoi ma co-creazione sia chiaro sin dall'inizio parte tutto da un rapporto personale che il PM deve sviluppare con quelle che sono le persone all'intorno io dico sempre durante le lezioni per il master che fare prodotto significa essere direttori d'orchestra ed è vero questo cosa significa direttori d'orchestra non è che si preoccupa tanto che tutti gli strumenti siano accordati e va a dire al singolo non so quello che suona lo boe e accorda il tuo boe non so nemmeno se si può accordare lo boe sono un totale ignorante in quanto a quel tipo di strumenti però direttori d'orchestra non va lì a dirgli come si accorda no? richiede il massimo da parte di quel musicista lì ovvero che si deve presentare pronto e preparato va bene con ben presente quali sono gli spartiti e via dicendo io immagino che il direttore dell'orchestra conosca bene chi sono i suoi musicisti e sa quali sono le loro potenzialità e via dicendo lo stesso prodotto finale di una sessione di ok mettiamoci a tavolino e facciamo la strategia di prodotto come dicevo non può prescindere da le altre persone all'interno dell'organizzazione va bene e allo stesso modo la creazione è un atto comunicativo dall'inizio andando a stanare quali sono i tuoi alleati fondamentali che ti possono dare visioni diverse ti possono mettere in minoranza a livello di opinioni a livello di preconcetti e di magari non so c'è delle presunzioni particolari devi trovare gli alleati va bene inizia però poi un discorso anche di qual è la tua organizzazione puoi iniziare dal tuo team puoi iniziare da una sessione di sparring insieme al tuo capo ingegnere no se puoi incentrare un discorso più sulla fattibilità magari a un'idea sai qual è il problema già e già inizi subito sullo sparring tecnico per dire no ripeto non esiste una formula che permetta di dire ok questo è come vado a costruire il mio contenuto che poi chiamerò strategia di prodotto la strategia di prodotto è o meglio non è un'attività singola di una sola persona una sola persona la controlla si rende conto che quando stiamo facendo le prove d'orchestra non ci sono strumenti che non sono accordati non ci sono persone non ci sono musicisti che si mettano a suonare non so un valser quando invece è una polca per esempio no questa è la cosa fondamentale che permette veramente di sapere e di dire ok io ho comunicato la mia strategia di prodotto in maniera no effettiva ed efficace ecco e si basa tutto su il personale c'è tanto investimento di rapporto personale per come l'ho sempre vissuta io e per come l'ho sempre fatta io quando mi sono messo in testa all'inizio magari della mia carriera no magari leggevo un libro ma devo seguire qui devo fare e cerchi di essere diciamo un po' il deus ex machina che arriva in un team e propone cose ecco quello è il modo da non fare questo lo posso dire per esperienza personale in vari ambiti mi è capitato di prendere le ruotoste pazzesche a fare in questo modo quanto piuttosto tornando al nostro discorso facevamo a cos'è l'ingredente fondamentale il documento aperto su quel che vuoi su google docs o su qualsiasi equivalente con i commenti aperti a tutti non è un documento super segreto oddio oddio no guarda questo soltanto i mega capi lo posso no tutti va bene nel fattibile ok sempre andando a guardare ovviamente se si tratta di una strategia di un prodotto che non so ha a che vedere con la sicurezza nazionale queste cose non le puoi fare d'accordo se si tratta di qualcosa che va a impattare a cambiare o è armonizzata un cambio di strategia aziendale talmente grosso ne so fa riferimento a fatti e cose avvenute è puramente casuale dobbiamo sbarazzarci di tutto il customer service e ci serve una strategia di prodotto per andare a vedere come integrare terze parti di customer service beh queste cose qui non è che le vai a aprire a tutti no però succedono però succedono d'accordo quindi anche se in questo esempio un po' nefasto magari l'addetto del customer service è quello che ti può dare più input nel definire la strategia in questi casi qui allora deve un po' no restringere diciamo lo spazio di condivisione ne assolutissimamente Tommaso io so che siamo over time che avevi una hard deadline 5 minuti siamo già siamo già fuori tempo ebbè succede quindi adesso faccio wrap up della live ringraziandoti tantissimo per essere stato con noi ci sono altre tipo 7 e 8 domande che ti volevo fare per cui questo sarà una parte 2 che magari facciamo in inglese invece che in italiano così apriamo la tua la tua esperienza a tutti ringrazio tantissimo anche le persone che sono state con noi fino ad oggi fino ad adesso siete stati numerosissimi quindi grazie grazie tantissimo per averci per averci seguito Tommaso grazie di nuovo davvero un piacere parlare con te è sempre un piacere anche per me e imparare da te buonasera a tutti buonanotte e ci vediamo alla prossima volta ciao a tutti grazie grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti ốn grazie a tutti